Associazione per delinquere dedita alla commissione di truffe e illecito utilizzo di strumenti di carte di credito sono i reati contestati alle persone, tutte del pescarese, coinvolte nell'indagine della procura di Pescara che ha portato a 11 misure cautelari, 8 arresti domiciliari e 3 obblighi di dimora reseguite con il concorso di compartimento di polizia postale di Ancona, squadra mobile di Pescara e reparto prevenzione crimine Abruzzo. Le misure emesse dal GIP del Tribunale di Pescara Nicola Colantonio arrivano dopo un'attività di indagine che vede 33 indagati, alcuni con precedenti specifici, in relazione a un centinaio di truffe su internet. Su 37 carte ricaricabili, oggetto di monitoraggio per 4 mesi, sono confluiti oltre 210 mila euro versati da ignari acquirenti per acquistare notebook, strumenti musicali, motori fuori bordo mai consegnati dai truffatori. Addirittura spesso questa merce per dare contezza del fatto che hanno fatto, che hanno spedito la merce mandano anche delle false fatture via WhatsApp per indurre le persone a mandare l'anticipo addirittura ad acquistare totalmente la merce. Le carte sono state individuate attraverso analisi di dati inseriti nella banca dati Interforze. La tempestiva acquisizione da parte degli agenti delle analisi delle relative liste movimenti e l'individuazione dei punti di prelievo e spendita ha consentito di acquisire i filmati relativi alle operazioni di prelievo e arrivare all'identificazione di chi prelevava le somme di denaro, persone però diverse dagli intestatari delle carte. I consigli sono sempre gli stessi, quindi l'aggiornamento antivirus è necessario, browser e software sempre aggiornati che garantiscono anche degli acquisti più sicuri. I siti sono dei veri e propri negozi, quindi controllare se esiste una partita IVA, un numero telefonico fisso per poter colloquiare, parlare, interloquire con qualcuno se si ha un problema o anche semplicemente per la garanzia del prodotto e soprattutto anche avere un feedback delle recensioni delle persone che hanno già acquistato su quel sito e non cadere nel tranello di costi o prezzi che vengono sottovalutati rispetto a quello che è in realtà il prezzo di mercato di quell'oggetto.